Il 19 maggio Meghan Markle e Harry si sposeranno. Ecco come seguire in diretta le nozze più attese dell'anno. Il Royal Wedding si avvicina. Siete pronti a seguire, in diretta, le nozze di Harry e Meghan Markle. Il prossimo 19 maggio l'attrice americana e il principe si giureranno amore eterno nella cappella di S.I. George all'interno del castello di Windsor. Il giorno del sì, verrà trasmesso in diretta televisiva. A volerlo sono stati proprio gli sposi, che desideravano condividere questo momento magico con milioni di persone comuni. La cerimonia inizierà alle 12, le 13 in Italia, e avrà una copertura mediatica di notevoli, dimensioni e su diverse reti televisive. Nel Regno Unito a occuparsi del Royal Wedding saranno la BBC, i TV e Sky News. Nel resto del mondo, l'evento verrà coperto dalla CBS, dalla NBC, dalla ABC, da Fox, BBC America, PBS, e ovviamente il canale, e. Se la vostra TV non prende queste reti televisive niente paura, anche in Italia, avremo la possibilità di goderci le nozze di Meghan e Harry. Su canale 5, infatti dalle 12 e 50 sino alle 14 e 45 verrà trasmesso l'evento Live. In seguito Silvia Poffanini, nell'ambito di Verissimo, commenterà il matrimonio con gli ospiti in studio. Se non avete voglia di accendere la TV, potete comunque seguire le nozze di Harry e Meghan in streaming su tablet, PC e smartphone. Per farlo vi basterà collegarvi alla pagina Facebook della BBC oppure al loro sito ufficiale, per scoprire tutti i dettagli del Royal Wedding. Infine anche i canali ufficiali di Kensington Palace, e della Royal Family saranno aggiornati in diretta live con immagini e video che racconteranno la cerimonia più attesa dell'anno. Nel 2011. Quando il principe William e Kate Middleton si sposarono, l'evento ricevette una copertura mediatica totale, tenendo incollati allo schermo della TV oltre 23 milioni di americani, e la bellezza di 27 milioni di inglesi. Numeri da record che di certo verranno imitati, se non surclassati, da Meghan e Harry. Che hanno emozionato il mondo con la loro favola romantica. . .